Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to my life of crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcast. Quando uscire sono dischi di personaggi importanti come Gue Pequegno, Pilastro, che insomma un conto quando ti esce diciamo col mixtape, con l'esercizio di stile, un conto è quando magari gioca a fare lo spaccone nel singolo, un altro è quando esce il disco. L'ultimo disco di Gue, prima insomma di Fast Life, insomma fu un disco in cui lui proprio ci teneva a dire voglio che questo concept resti un po' più nel tempo. Quindi comunque lui è uno che quando fa l'album ci tiene e quindi di conseguenza andrebbe ascoltato tutto, poi scelto il brano e poi dovrei parlarne ed è quello che avrei voluto fare domani mattina. Ma ho cliccato su Futura Ex e la cosa mi ha dato tanto da dire. Quindi non ho ascoltato altro, ho ascoltato solo questo brano attualmente. E a parte la qualità, perché veramente la strumentale è semplice ma che veramente ti dà quel senso di qualità. Ci sono momenti in cui sembra un disco di Mr. Zampini, qualcuno che conosce un po' il mondo dell'hip hop da parecchio tempo, sa che qualche tempo fa, insomma, tra i dischi diciamo più importanti c'era la tortuosa via per Bisanzio di Zampa, ecco, con tutta la cricca Bassi Maestro e compagnia. Cioè non c'era Bassi Maestro nel disco ma comunque, ecco, faceva parte di quel gruppo lì, Giorni Matti, per intenderci, era la canzone che ti poteva pilotare da quest'artista. Ma a parte sta cosa, ha un sound appunto che mi riporta a un disco vecchio, un disco di qualità, un disco che è stato magari programmato lentamente, anche nella solitudine. E questa canzone, secondo me, è importante perché tratta un tema di sconforto, tratta un tema, cioè ci racconta un attimo quanto abbiamo perso in questo mondo negli ultimi vent'anni. Perché non abbiamo più certezze. E' un brano così Futura Ex, dove si parla già a una relazione che è già finita, che certamente finirà, è in netto contrasto a quello che era una volta, quando a un certo punto ci si sposava ed era per sempre. Ecco, personaggi come Guepechenio facevano parte di quella generazione, diciamo, subito dopo e che quindi, diciamo, che potevano rientrare in quel mood, sposarsi, fare un figlio subito. Adesso Guepechenio avrà un figlio, però, insomma, ha una certa età, ha sfogato un po' la sua vita. E invece lui, adesso, un po' con le sue scelte, un po' col suo tenore di vita, si ritrova a fare i conti con un background di conoscenze, di relazioni, di scappatelle, che comunque, a un certo punto, non bastano mai, ma finiscono per bastare. Forse per questo lui ha deciso, in questo momento della vita, di fare un figlio. Se l'ha deciso, se c'è scappato, sono collegate magari le cose. Però ecco, questa canzone è magari proprio Guepechenio che si è stancato, che è stufo di questo ciclo che inizia e continua così, di questi brividi, di questo inizio e poi di questa noia che arriva poco dopo. Conernia, che te lo spiega bene il concetto, ti fanno capire entrambi che cosa vuol dire, diciamo, vanno a smontare questa fama da playboy che hanno e te la smontano bene e ti mostrano il vuoto di quello che c'è dietro, il volto dello sciupa femmine, che oggi veramente non interessa più a nessuno. Qui io vedo l'esigenza di due personaggi che vorrebbero amare e forse non ci riescono, proprio perché scendono in campo già sconfitti, consapevole che al termine dei 90 minuti si tornerà negli spogliatoi e si sarà soli. E quel pequeno lo dice, nasciamo e moriamo soli, siamo soli, inutile che ci illudiamo, tanto è così. Non voglio neanche più illudermi. Grazie. Grazie. Grazie.